Grande fratello segnalazione Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi alla stazione Termini a Roma. Non vogliono uscire allo scoperto. E adesso torniamo a palarvi di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Oggettivamente non vorremmo mandarvi in confusione, ma secondo noi Bea e Giù ci stanno pensando da soli a farlo e ci stanno riuscendo molto bene. Insomma ormai gli avvistamenti di loro due sono veramente all'ordine del giorno e c'è la sensazione forte che lui ormai venga a trovarla a Roma con cadenza settimanale. L'ultima volta che erano stati segnalati a Roma era una settimana fa a Radio Marte mentre passeggiavano amorevolmente per strada, hanno anche fatto serate insieme dove hanno ballato, sono stati avvistati al Colosseo, vicino casa di lei. Ci sono foto di loro che si presume era proprio a casa di Beatrice. Ma non solo infatti proprio oggi è arrivata una segnalazione molto credibile a detta della stessa esperta di gossip di Yanira Marzano secondo la quale i due erano insieme alla stazione Roma. Termini alle 16 di ieri. Ricordiamo che l'ultima volta che Giuseppe Garibaldi aveva parlato di Beatrice a Mio si era dichiarato innamorato di lei e aveva detto che la voleva riconquistare in tutti i modi. La sensazione forte è che alla fine ce l'abbia fatta. Grazie. 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 Grazie.